Per reggavirtare in un altro qua E' l'umbrella, l'umbrella che vuoi dare, beh se tenessi un'umbrella io stessi che c'entrò Una sacco di talla la troviamo, si, una sacco di talla la metto su un cocccio E' così, tirate qua, capirete c'è la stazione, cosa ti accompagna? ma tu stai facendo la classe di Brameccia, partai insieme per la guerra, beh non mi ricordo io non mi ricordo che la sesta la bicicletta, che ne chiede a fare la bicicletta, che ne chiede? Alla su questa, allora, quando il ministro da la manda a pregiunire, io ho fatto la guerra e io ho fatto la guerra e io ho fatto la guerra, e io ho fatto la guerra, che ne ho fatto la bicicletta, ne faceva delle batterie, ma la prendeva vina di questa marmiglia che era allora e la bocchiava e la mandava per la scorciatura e ne faceva di zimbo, e con lì troppo gli saffoleva la rete e la campanilla non aveva mai le requie, la campanilla non aveva invece il clattatoio e i pezzi che fomessero li cambierai ancora, i pezzi che fomessero meno male che te, diciamo a cucina, ci lasciaste lì cacciacopertino allo borsellone a cucina ma lì una volta la cacciaglia, una volta l'armatoglia non faceva il clattatoio la campanilla, la bicicletta, la rotanninza anche, dove andò, dove andò, andò ancora non so a cucina e lì per metterlo, con un mestice capito che i pezzi che metteremo, i pezzi ma la pampa, la pampa, ci rompò sempre da quando fu, e la pampa, la aveva mai trovato in Brest diciamo, è in Brest, in Brest, in Brest, lo sapeva mai, ma che cosa? non sapeva, lo, 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 lo scarpare, esce, lo scarpare ti aveva la pampa della bicicletta, quello, quello, non c'era tanto gelato, non c'era tanto gelato, non c'era tanto gelato, non c'era tanto gelato, e che fai? e che fai? quando cassa, capace che parteva la manù, diciamo, a cucinare, può fare lo scarpare, quello che era l'artasopo, quello, partava la mattina presto e gli aveva, era affottito, che era affottito, lo legase e faceva gli scherpi, diciamo, a mettere la sale, a mettere le zappate e li salvava tecche, le panna, diciamo, a cucinare le panna, le valle, ogni cosa, non c'era tanto gelato, e questo, parteva la manù la mattina e noi capace che aveva ratta, aveva sbucito la bicicletta, che faceva la bicicletta, la manù senza la cambrateria, senza la copertana, e poi ci poteva, qui a là, dopo, ci si maciava la chicane, no? e allora, allora c'era, perciò a ciocca, e poi l'uomo. doveva quella che aveva, a cercano, certo? a cercano, ne facevamo, ho fatto tutto il giorno con i franghi, li andammo da lì con la fraccionella e lo cercano, certo? Sì, la posa no, lo aspettavamo quando era la notte di lasare, quando avevamo la neve, allora eravamo venuti, capisci che avevamo bello il sonno appena avevamo bello, avevamo il ulofannico, diciamo così, e gli diceva, eh, quando ci avevamo il ulofannico, non ci potevamo, perché anche ci portavamo la cittadina, allora gli si potevamo bruciare, ci saremmo a Romani, a Regione Unita, diciamo così, no, la manua, a sorte di due, diciamo così, io non ci potevamo, e io l'ho, poi io la pompa, e capisci che unviaremo la, e se non che la unviaremo, la bicicletta fa un po' con il sofflatino, beh, se non torneremo la pompa, e allora unviaremo la bicicletta, e la mattina, io la portaremo prima, prima giorno, quando ero verso i quattro, i quattro e mezzo doveva partire, no, e noi, capisci che, prima che eravamo partito, io la mettiamolo, e non se ne adunava, e poi dice, e dire, se se ne si era adunata, beh, lo sempre, beh, se sapevo questo, lo sempre, e poi, beh, buono, buono, ma, per dire, era, 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 le terribile, lo sempre, e poi, e, beh, se sapevo, e, 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 a cercare, e, 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 un po' un bicicletta alla manucio, e, e, beh, ma, buono, ma che pare che noi, gli avevamo in bicicletta e andavamo con i russi, andavamo la sella per dire che c'è gli avevamo sette canne alla manù, un po' per una travenza e gli avevamo la mezza, mezzogiorno alla manù, la bicicletta la tenevamo da lì e ti prendevamo da quest'altra parte e via, facigli lì, e via, e li carsi, che carsi potessi fare? che carsi potessi fare, se avevi fatto la via nuova che è cammata, che carsi potessi fare? Dalla locannata del tuo figlio, arrivato all'era d'angelo, e gli avevamo fatto la carsa dell'esina, la carsa dell'esina, sono gli affine di faccanderra, quando gli affine di faccanderra, ma li vorreste che porteremo qui, vorreste noi con l'esina, per dire, e... intanto da fare la tua stessa pregiunire te, che c'è che ha fatto, che ti ha fatto una bella panzetta, la terra dei contadini ha dato, la terra dei contadini, ha cominciato da capire questo, e da capire, sempre loro, perché... perché hanno detto che indostano, avevamo un po'... da quando, per dire, ma... cominciamo da ma e facciamo diverso, quando a zappare ci va l'implicatore, l'implicatore va a zappare, e il contadino se ne va, lo ruffo, bella, alloguita, diciamo, a cuciore, quelle scarpe lucicante, con la sicuretta a mocca, e la scolla bella, alla manù, quella è la verità. se non è sempre loro, perché la terra ha dei contadini, la terra dei contadini, questo lo fanno, non puoi sapere chi ne dice, no, e questo lo fanno, e se zippa zippa te, se non puoi sapere, non puoi sapere, non puoi sapere ne dice, beh, vedi le giardiniere dei termi, cosa fanno? Le giardiniere dei termi, cioè... quando è il tempo che ci vuoi dire che li mai riesce, e io li mai riesce, perché li capisci, che? L'ho capisci, che? L'ho capisci, che? L'ho capisci, che? L'ho capisci e sale, che? L'ho capisci. Eeeh, quando io devo fare delle cose, capisci che... io ne volevo vedere qui, io ne volevo vedere lì, io ne volevo vedere la schella, diciamo, non ne volevo vedere l'orange, non ne volevo vedere le furbicce di capena, sarebbe che, diciamo, a cuciere, per un plantano, diciamo, sarebbe una calcia, sarebbe una cerco, sarebbe una alma, che se li portano l'uvento, che se li portano l'uvento, sarebbe che sono insieme perché stanno a fare la serra, il mattorettolo, il mattorettolo, il mattorettolo, la serra della pelle, l'umicchio dell'ufiglione, perché l'uvento, che li fai fare? E' il cosac facile? Perchè? Perchè? Già voglio stare l'unerroio, non no? Già voglio sporcare le scopi, ci vorrei, diciamo, o a chi c'è... ci vorrei... ci vorrei sporcare le ricchezza, diciamo, a chi c'è... ci vorrei andarempare, e perchè... e nè quando vanno a spesso, a mandare a luoggi chi sa che può pensare la gente se porta la pavola, se porta la terra, chi lo sa che può pensare? Ma io faccio un po' a rama, diciamo, Andreotti, formica, formica, tre volte te lo dico, formica, 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 che bello che capite? Io in questi giorni faccio assai, faccio assai fare ogni cosa e me ne vengo, e se mi prendiamo la bustella la mattina che porta questi sguazzini che va a scuola, che va a scuola, che va a scuola, che va a scuola, e se mi prendiamo e mi faccio portare, riesco sapendo che io vengo a terra che riesco, e invece io vengo a Bologna, Bologna, tu vai che ha se deve essere molto, se deve essere meglio? Voglio diventare meglio un'est per me, voglio diventare meglio un'est, che è quello? Grazie a tutti.